In realtà diventare ricco è una cazzata e puoi farlo anche tu. Se hai mai sognato di diventare ricco, se hai mai sognato di fare più soldi di quelli che hai, se hai mai pensato di aver successo, di voler più successo di quello che hai in questo momento, sappi che in realtà è una cazzata. Perché l'unica cosa che ti sta bloccando in questo momento sono dei limiti. Allora, molti sono i corsi motivazionali, molte sono le cose che avrai letto sui limiti, che devi installare il pensiero positivo, devi avere credenze più potenti, devi pensare sempre le cose meravigliose. In realtà i ricchi hanno una sola cosa di differente da te e questa cosa è una cosa che io chiamo loop. I limiti sono in realtà una sensazione all'interno del corpo e te lo faccio vedere perché potresti averne anche tu. È una cosa che ti impedisce di avere ciò che desideri. Prova per esempio adesso in questo momento a pensare a un qualcosa che vorresti, a un qualcosa che vorresti migliorare nella tua vita. Prova a immaginare adesso in questo momento ad esempio ad avere il tuo primo milione di euro. Se è troppo un milione di euro, pensa a una cifra che secondo te è un qualcosa che ti piacerebbe raggiungere e che ti permetterebbe di dire a te stesso, beh, questo mi ha fatto avere un po' più successo di prima. Prova a immaginare adesso, nel momento in cui pensi a questo, che cosa ti succede? Come ti fa stare questa cosa? Potrebbe succedere che dentro di te arriva una voce, un qualcosa che dice no, non lo meriti, non fa per te, non ce la farai mai. Ecco, questa è la differenza che si è prefissata. Ma che cos'è che ci impedisce di credere di poter raggiungere il successo? Che cosa è che ti sta impedendo di ottenere più del necessario? Di fare anche tu il tuo primo milione? Soprattutto di diventare ricco, cioè di avere più di quello che puoi pensare di avere. La cosa che ti impedisce questo sono i limiti. Che cosa sono i limiti? Dov'è che sono questi limiti? Ti basta semplicemente fare questo esercizio per capire come fanno in questo momento quelli che io chiamo loop, a fermarti e a fare in modo che anche tu diventa ricco. Prova per esempio a pensare a questa cifra, prova a pensare ad esempio a un successo lavorativo, prova a pensare a un aumento di stipendio, prova a pensare a qualcosa, a quella chiamata che devi fare o per accettare quella proposta che ti hanno fatto, oppure prova a pensare di cambiare il tuo lavoro e scegliere finalmente quel lavoro che ti piacerebbe fare, che ti permetterebbe di svoltare nella tua vita. Come ti fa stare? Come stai? Quando pensi a questo? Prova a osservare adesso se nel petto, nella pancia, riesci a sentire qualche sensazione, qualcosa che ti fa stare male. Se ci pensi bene, svoltare, cambiare vita, cambiare lavoro, avere più del necessario dovrebbe farti star bene, ma portando l'attenzione a questo cambiamento potrebbe succedere che c'è una sensazione o nel petto o nella pancia o nella gola. Questi sono quelli che io chiamo loop. Sono pensieri che dovrebbero essere positivi, dovrebbero farti star bene, che in realtà sono agganciati a delle sensazioni sgradevoli. Com'è possibile che quando tu vuoi diventare qualcosa di diverso, magari bello, ricco, potente, che magari vuoi superare quelle che sono le convinzioni limitanti che hai, c'è qualche pensiero negativo o qualcosa che ti fa star male? Questi, come ti ho detto, sono loop e sono i tuoi nemici. Ci sono ciò che ti fanno essere differenti da una persona ricca, che magari ha anche lui queste sensazioni, ma va oltre, ma li supera, ma impedisce a queste sensazioni, impedisce a questi pensieri di limitarlo nella propria vita. Come si fa a capire se sei vittima dei loop? Di nuovo, pensa a qualcosa nella vita che vorresti ottenere. Pensa a qualcosa che ti piacerebbe realizzare nella tua vita e osserva se ci credi al cento per cento. Osserva quanto credi sia possibile per te in questo momento raggiungere ciò che ti sei prefissato o magari quello che è il tuo sogno da piccolo che hai messo all'interno del cassetto. Se non hai la convinzione totale di poter raggiungere questo è sicuramente perché sei affetto da alcuni limiti, da alcuni loop. Come fare a scovarli? Semplicemente osserva che cosa ti impedisce di credere al cento per cento che potrai realizzare quella cosa che ti sei prefissato. Sicuramente matematicamente arriverà un pensiero che ti dirà magari non sei capace, non sono capace, non ce la faccio, ci ho già provato ma ho fallito, non ho mai avuto la possibilità. Magari sei convinto che lì fuori ci sia un ambiente, l'ambiente esterno che ti impedisca di essere fortunato perché magari ci mettiamo in mezzo la fortuna pensando che ci sia qualcosa lì fuori che possa darti un aiuto per fare questo. In realtà se ci pensi, qualsiasi cosa tu abbia pensato che ti impedisce di raggiungere quelli che sono i risultati che ti sei prefissato, sono semplicemente delle sensazioni, sono dei pensieri con connesse delle sensazioni negative. E questo è il vero problema perché ad ogni pensiero negativo, può essere ad esempio non ce la faccio, non fa per me, non sono portato, c'è questa controparte fisica. Questo è quello che io chiamo loop. E li puoi avere in qualsiasi ambito nel tuo successo. Prova a pensare magari quando hai fallito qualche volta, prova a pensare nei momenti in cui sei stato giù, nei momenti in cui pensavi di non farcela, c'è sicuramente un loop. Quindi pensiero, non ce la faccio, sensazione da qualche parte nel corpo. E ti capisco perché questa sensazione non è piacevole e socialmente da tutti è accettata che è una cosa normale. Quando io penso di poter imparare a fare un nuovo lavoro, a muovermi in una nuova attività, circolo vizioso, questo vuol dire loop, tra pensiero e sensazione fisica. La differenza tra una persona di successo e una persona che non ha successo è che il primo non si fa influenzare dai loop ma va avanti, il secondo ne è vittima. Cioè questo dolore, questa sensazione che senti perché magari hai fallito, perché magari hai paura, perché magari pensi di non farcela, la lasci vincere. Cioè ti prende e ti ferma e ti blocca prima ancora di iniziare a fare il tuo cammino verso il tuo successo. Allora come si affrontano questi loop? Cioè come si fa? Innanzitutto bisogna capire se è possibile affrontarli o se è vero che è socialmente accettato e quindi io sono fatto così e non posso cambiare. La cosa interessante, la buona novella se vogliamo, è che tutti possono diventare ricchi e tutti possono farlo in maniera estremamente semplice. Ti basta installare una prima sana abitudine che è quella di diventare consapevole che c'è un loop, che c'è un limite che ti sta bloccando e che questo limite è proprio quella sensazione che stai provando. È una sensazione fisica. Quando fai un pensiero limitante c'è sicuramente sempre quella sensazione fisica che ti sta limitando. Il primo vero passo è quello di diventarne consapevole. Cioè nel momento in cui io sono consapevole che penso a cambiare lavoro, penso di scrivere un libro, penso di fare quella telefonata che mi permette di prendere quella nuova possibilità e questa cosa magari mi crea una tensione al petto o qualcosa allo stomaco, il fatto che io ne sia diventato consapevole è già l'inizio della fine della guerra contro i loop. È già l'inizio del cambiamento che puoi avere. Per diventare ricco, perché io sono convinto che ogni essere umano possa diventare ricco, anzi sia un'anomalia non esserlo. Basta guardare che cosa ti circonda. Siamo immersi nell'infinito più infinito e ti ripeto l'unica differenza tra te e una persona veramente ricca è semplicemente che uno sa affrontare il loop e l'altro no. Quindi come si affrontano i loop? Prima regola è diventarne consapevoli. Ogni volta che farei un pensiero di cambiamento, che farei un pensiero positivo, che voglio diventare milionario, che voglio avere successo anche nel tuo lavoro, in qualsiasi cosa fai che voglio cambiare, osserva come reagisce il corpo. Secondo passo è quello di eliminare questi loop. Cioè se io prendo questa cosa che mi sta limitando nel cambiare lavoro, questa cosa che mi sta limitando nel prendere quella opportunità che mi sta aspettando e la tolgo, cioè questa sensazione, io sarò libero di portare la mia attenzione verso quello che viene chiamato famoso pensiero positivo. Cioè allora lì sarò in grado di tenere il focus, di tenere la mia energia verso quella direzione che voglio intraprendere. E non importa quanti fallimenti avrò, perché se ci pensi bene e se parli con una qualsiasi persona di successo e ricca, ti dirà che avrà fallito tantissime volte. Allora come mai tu ti fermi la prima volta che fallisci e questi no? Semplicemente perché sanno come affrontare i loop. E come si affrontano i loop? Semplicemente portando l'attenzione verso il tuo successo, mantenendoli l'attenzione e osservando queste sensazioni fisiche che cambiano, si sciolgono, spariscono e ti permettono di mantenere la tua energia verso ciò che vuoi. Il segreto è proprio quello di mantenere l'attenzione verso il tuo successo e non fermarti finché non avrai ottenuto esattamente quello che vuoi. Quindi sapere che hai dei limiti, che questi sono dei loop, diventarne consapevoli ed eliminarli ti permetterà di essere, fare, avere praticamente tutto ciò che vuoi. E questa è la differenza tra te e una persona ricca. E ricco, magari hai già abbondante disponibilità economica, hai già un successo pazzesco, ma sono sicuro al 100% che c'è qualche sogno che ti piacerebbe realizzare. Allora anche in questo momento porta la tua attenzione a quel sogno e osserva se puoi mantenere lì la tua attenzione ed è libera senza nessun limite, senza nessun loop. Quindi se fai questo puoi in realtà essere, fare e avere tutto ciò che vuoi. L'unica cosa che ti separa dalla ricchezza è semplicemente un loop.